che possa fare ancora di più e meglio e siamo andati a visitare qui adesso da voi un'azienda multinazionale che investe nella provincia di Sernia, che investe in questo territorio e che una volta che il vostro capo riesce a spiegarvi dov'è Pozzilli ha voglia di investire ancora di più. Perché? Perché l'Italia ha tutto da guardare